Vinta la puntata del Coca-Cola Summer Festival, passata la delusione per il 21esimo posto all'Eurovision Song Contest, Emma torna oggi con un progetto internazionale che la vede al fianco dell'idolo latino David Bisbal. Classe 1979, David è stato già ospite del concerto della cantante Salentina nella prestigiosa cornice dell'Arena di Verona e qui ha cantato con lei il brano per la prima volta dal vivo in Italia coinvolgendo il pubblico che non ha mai smesso di applaudire i due artisti che oltretutto si sono anche cimentati in una inedita versione spagnola di Amami, uno dei successi più acclamati di Emma. Ombre de Tu Vida sarà contenuta nella versione italiana di Tu Yo, album già numero uno nella classifica spagnola e latinoamericana e sarà in uscita nel nostro paese il prossimo settembre. Per ciò che invece riguarda il singolo sarà in radio da venerdì 11 luglio. È così che l'artista David Bisbal arriva in Italia con alle spalle grandissimi riconoscimenti a livello globale, 5 tour internazionali, 600 concerti in giro per 5 continenti, ma soprattutto un centinaio di premi, tra cui due latin grammi e numerosi latin billboard. Questo è David Bisbal che torna al fianco di Emma Marrone per Ombre de Tu Vida.